Siamo con l'uomo bolla della quinta tappa dell'Isop Season 2016-2017 Roberto Roberti dopo un torneo da deep stack sei caduto nel tranello della bolla Niente da fare, il D2 non è andato benissimo è rimasto 10 bui, ho pushato la coppia di Curcio 3-3 però lui di 7 io no ho trovato i Jack, avevo 10 bui quindi niente da fare Volevamo sapere un commento al primo evento che fai quest'anno dell'Isop Delle Isop sì Volevamo sapere cosa ne pensi di questa struttura La struttura è molto giocabile, mi piace la struttura 70.000 sono un po' tante all'inizio le fish però comunque al D2 poi i livelli man mano si livellano quindi si riesce a giocare abbastanza deep anche la prima parte del D2 Benissimo, quindi niente vi salutiamo tutti e appuntamento col Cip Leader Salutiamo Roberto e lo attendiamo alla prossima per un'intervista dal giocatore del Final Table Speriamo, la prossima volta da vincitore dai Ciao Roberto, grazie a te Ciao ragazzi